Si è giocato ieri, si è giocato oggi, si sta giocando oggi. Io chiedo scusa anticipatamente per le mie non perfette condizioni, mi hanno rattoppato alla bella e meglio e buttato in campo e ci proviamo. I numeri, il calcio è fatto di emozioni, è fatto di tattica, di tecnica, di agonismo, di condizione mentale, ma alla fine si conta e si pesa e i numeri sono fondamentali, ma non sono tutto ovviamente. Il Napoli deve fare la sua strada, non deve fare la corsa su nessuno. Chi dice mettere pressione all'eventus, come ho fatto io di sera, in parte sbaglia. La Juve la pressione non la sente per niente, sta già vincendo a San Siro. Ma non è questo che conta, non è la pressione da creare sull'avversario abituato da sempre a stare ai vertici. La può sentire il Napoli la pressione, la può sentire questa Inter che non è abituata più a vincere, tant'è vero che oggi a Bergamo ne ha prese quattro. Non la può sentire la Juventus. E allora non è il caso di ragionare di corsa sulla Juventus, è il caso di ragionare di corsa su se stessi. Diceva il grande Gianni Brera che a volte i campionati si perdono perché si va in eretismo podistico, cioè si va oltre le proprie risorse fisiche e atletiche, come fosse successo a Sarri l'anno scorso corso a Napoli, avendo spremuto troppo i titolari e perso per strada le riserve poco impiegate. Si muore di seme ed esing, diceva sempre Gianni Brera. E allora è il caso che il Napoli pensi a fare la sua corsa, perché ora ha una discesa incredibile da sfruttare. Cinque partite prima di andare a San Siro con l'Inter, nell'ultimo grande big match di giorni d'andata. in casa francamente se perde punti è qualcosa di impensabile in questo momento, perché tra il derelitto Chievo, la cui avventura Clivense di Ventura è già sventuratamente finita, poi il Frosinone e la SPAL, è versore a Roma della Roma, ma pur sempre la SPAL, al San Paolo, francamente pensare a nove punti è assolutamente possibile, come pensare che poi all'ultima giornata, con la chiusura dell'anno, il Bologna di Inzaghi possa raccogliere veramente poco se non nulla, cioè zero. Quindi queste quattro vittorie il Napoli ce li ha proprio alla sua portata. Deve però andare a fare il risultato fuori casa. E ha due trasferte insidio 7 anziché no, perché quella di Cagliari non è da sottovalutare, ma quella di Bergamo con l'Atalanta è ostacolo discretamente alto, come ha dimostrato oggi proprio la beniamata Inter. Il Napoli deve fare la corsa su se stesso, perché poi si vedrà nel confronto diretto con l'Inter cosa accadrà, ma il range d'oscillazione della chiusura dell'andata del Napoli, considerando che vince le tre in casa, ne vince almeno una tra le due in trasferta, nella peggiore delle ipotesi, e vince quella col Bologna, il Napoli sulle prossime, siamo alla dodicesima, ne mancano sette, sulle prossime sette partite fa cinque vittorie almeno. E poi si vedrà se riuscirà a battere l'Atalanta, se si riuscirà a tirare punti fuori da San Siro, ma il range tra i 44 e i 47 punti. E qui le vedovelle sarriane subito insorgono. Abbiamo fatto 48 punti l'anno scorso e anche nel giorno di ritorno dell'altro anno. Dimenticando però che il Napoli ha fatto un punteggio incredibile, 91 punti, ma ne ha fatti solo 43 al ritorno, solo 43, che per una squadra che ha l'ambizione di vincere lo Scudetto è una quota negli ultimi anni bassa. Ribadisco che lo Scudetto si è perso per altri motivi che ripeterò all'infinito, per me lo Scudetto si è perso a San Siro, io darò sempre ragione a Sarri che l'ha perso in albergo lo Scudetto, ma non per la partita del giorno dopo, per quello che è accaduto il giorno prima, cioè durante la gara di Milano, perché 91 punti sono un'enormità. Se poi la Juve, che l'anno prima ha vinto lo Scudetto a 91 punti, si migliora, arriva a 94 e quest'anno sembra andare oltre anche i 94, chapeau vuol dire che sono più forti, c'è poco da discutere. Facciamo la corsa su noi stessi. Se il Napoli fa nel giro di torno i 48 punti e ne fa i 44 nell'andata come minimo, ecco che il Napoli si porta a una quota siderale di 92 punti, poi vediamo se la Juve li fa. E questo è il ragionamento che bisogna fare, la corsa su se stessi. Questo Napoli è in corsa su due competizioni due, con grandi possibilità di fare benissimo in entrambe, la mentalità di Carlo Ancelotti è stata trasferita alla squadra in maniera vistosa ed evidente, una partita come quella di Genova non la tiri fuori, un po' perché lo stellone di Ancelotti sommato a quello di Laurentiis è una combinazione letale per gli avversari probabilmente. Se poi si aggiunge tutta la scaramanzia napoletana che dice che Pardo e Dazzon portano bene, siamo a cavallo. Ma certamente la partita di Genova ieri era molto complicato portarla a casa e il Napoli ci è riuscito, sono quelle partite che cambiano forse una stagione. Lo ripeto, è la serata anche del superclassico a Buenos Aires tra Boca e River e lì andiamo nella poesia del calcio, là si va oltre ogni cosa, come dice Federico Buffa nulla è come il superclassico. Quindi la serata ha anche un qualcosa di romantico perché per la prima volta nella storia si incontrano le gallinas, così sono nominati i tifosi del River perché persero col Pennerol una finale nel 66, vincendo 2-0, persero 4-2 negli ultimi minuti, i tifosi del Banffier dalla partita successiva buttarono in campo una gallina in segno di schermo e da allora sono diventate gallinas. Ma quegli altri richiamano anche peggio perché richiamano Boqueros, mi pare una cosa del genere. Perché? Bosteros, che vuol dire sterco di cavallo. Anzi si presentano allo stadio con i deodoranti per prendere in giro gli avversari. Sono quelle cose che nel calcio, se si limitano a queste, sono anche divertenti, piacevoli e simpatiche, ma perché c'era una fabbrica di mattoni che tra i mattoni metteva lo sterco di cavallo e la puzza che si sentiva ha fatto sì che hanno soprannominato quei tifosi così. Capirete cosa significa Boca River, molto più di questo Milan-Juve che di sapori romantici ne ha davvero pochi. E allora io vorrei ricordare che se Napoli deve pensare a fare la sua corsa e la sta facendo con un leader calmo che sta trasferendo a tutto l'ambiente una tranquillità che non si vedeva da anni, io voglio dire che i numeri perfetti sono molto rari, proprio come gli uomini perfetti, lo ha detto Cartesio, scusate se è poco.